Bella raga e benvenuti a questo nuovo video e oggi voglio far vedere che ho scoperto un portale andando in un posto abbastanza strano, abbastanza aerosolato rispetto allo che fu comuni visto che sto facendo la volti a calseggio così, veloce sono andato al motel che è vicino a Crocevit del Ciarpame e niente ho trovato un altro portale che penso di essere l'unico su YouTube Italia, sicuramente sarò l'unico visto che non ho trovato video riguardanti il motel, almeno fin'ora, fino a stasera riguardante i portali vicino al motel e niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia interessato ciao